Un'applicazione di tennis dedicata a tre livelli di gioco. Il tennis è certamente uno sport dinamico. Lezioni tecniche e delle esercitazioni video. La videoanalisi dei vostri colpi. Amici di GoLarsa Coaching, parliamo della mia materia. La volé! L'impatto è il momento più importante del movimento del giocatore di tennis. Portate la spalla fino a fine corsa. Permette di stabilire la giusta distanza dalla palla. Come federe le niscicori. Tagliare la palla da sotto. Non rinunciate mai ad avere un gioco d'attacco. Il tennis non è uno sport aerobico. Sarà un'occasione unica per migliorare il vostro tennis insieme a me.